Tanta gente da Via Padova a Piazzallo Reto per chiedere lavoro e meno immigrazione. Sì, è molto positiva questa manifestazione fatta a Milano e fatta in questa zona, ma ricordiamo anche che contemporaneamente ci sono almeno altri 16 presidi in tutta la Lombardia che chiedono le medesime questioni. Meno immigrazione, più lavoro per la nostra gente. Credo che sia una domanda di buonsenso. Il buonsenso non è né di destra né di sinistra e non ce l'ha neanche la Lega, ce l'ha la gente di buonsenso. Io credo che in questo momento il fatto che ci sia tanta gente per strade, tanta gente che ci batta le mani anche intorno alla nostra manifestazione, credo che sia un segnale positivo perché capiscono che in questo momento solo la Lega sta da parte della gente. Gli altri li vedremo poi in campagna elettorale, fra due mesi li vedremo tutti. In questo momento solo la Lega dice meno immigrazione e più lavoro per la nostra gente.